Oggi ti preparo la torta della nonna, un dolce golosissimo che ti conquisterà il primo assaggio. Dai, preparala insieme a me. Per prima cosa prepara la pasta frolla, quindi versa su una spianatoia la farina, lo zucchero, il sale e la vaniglia. Aggiungi il burro e impassa il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso. Fai la fontana al centro e unisci le uova. Impassa nuovamente il tutto fino ad ottenere un panetto liscio, compatto e omogeneo, che lascerai riposare in frigorifero per circa un'ora. Nel frattempo prepara la crema pasticcera, quindi lavora le uova entere e i tuorli insieme allo zucchero. Aggiungi la farina, mescola e metti da parte. Sul fuoco fai scaldare il latte insieme alla vaniglia. Aggiungi la montata di uova e mescola fino a che la crema non si sarà ben addensata. Spegni il fuoco e lasciala raffreddare. Dividi la pasta frolla in due parti uguali e stendila in due sfoglie spesse circa mezzo centimetro. Con la prima sfoglia fodera uno stampo di 26 cm di diametro precedentemente spruzzato di spray staccante. Buccarella nel fondo e farcisci con la crema pasticcera ormai fredda. Livella bene la superficie, quindi copri con la seconda sfoglia di pasta frolla. Sigilla bene i bordi e elimina l'eccesso di pasta e bucarellane la superficie. Aggiungi i pinoli e cuoci in forno statico preriscaldato a 160 gradi per 50 minuti. Dopodiché alza la temperatura a 180 gradi e prosegui la cottura per altri 10 minuti. E tadan! Ecco pronta la torta della nonna. Guarda quanto è golosa. Ti è piaciuta? Lasciami un commento!